Lui è il vizio ragazzi, cantante, chitarrista, celebri i suoi concerti dove i propri fan gli lanciano contro tutti i generi di cose, è pazzo, è ribelle, è satanico, è con noi Richard Spencer! Come stai? Piacere? Dire bene è troppo poco, è troppo poco, meno male, non so che dire Che devi dire? Ancora niente, mi si vede di presentare gli altri Sai, per una persona che ha fatto rock per 40 anni diventa difficile distinguere il vizio da una forma normale di vita convenzionale, per cui ci possono essere tanti, tanti vizi Il primo che mi viene in mente è prendere un coltello e tagliare praticamente un soggetto che è davanti, che ti può ispirare Va bene arrivederci, il programma è finito, grazie Ti stavo per insegnare come ammaestrare il dolore, come ammaestrare il dolore! Bravo! Perfetto, Remo il tuo vizio! Questo è uno scherzo che mi hanno fatto sicuramente Questo non è uno scherzo, solo io Sei tu? Io sono così nella realtà, gliel'ho detto già agli autori A me non l'avevi detto A loro non te l'hanno detto! Ah, ok Io sono così sempre Sempre? Forse questo è un vizio magari Ma tu non mi hai mai visto sulla scena? Ma come? Lei non mi ha mai visto? No Lei viene colta di sorpresa da che cosa? Da uno che dice ammaestrare il dolore Forse lei è abituata ad ammaestrare le pulci E come si ammaestra il dolore? Remo Amore mio Come si ammaestra il dolore? Amore! Io servizio delle parole Scusate, scusate, devo fare prima questa domanda a Remo Richard, che cosa stai dicendo? No, ho detto Alba Mi posso avvicinare? No, non ti devi spaventare È il mio modo di essere Guarda che se la uccidi faresti pure bene Cosa? Se la uccidi io sarei contenta Assolutamente no Uccidere non è neanche un vizio Ah, Dio Mi mordi E ormai apri qualsiasi giornale nella normalità Senti, Richard, volevo chiederti un'altra cosa Hai visto che cosa c'è? Certo No, io ho detto Cosa? Che cosa c'è lì sopra? Non ho visto Ma come non l'hai visto? Guarda bene Ah, sì? C'è un pacco C'è solamente un pacco Sì, c'è un pacco Nero Ciocchettato E io che ci faccio con quel pacco? E tu che ci fai? Lo staranno chiedendo a tutti i nostri Io che ci faccio con quel pacco Non lo so È un regalo C'è qualcosa? C'è una sorpresa? Una penitenza per uno di voi? Io dicevo semplicemente che Alba Parietti c'ha 2.000 scarpe, capito? Sarà un vizio? Per me non è un vizio Bravo, non è un vizio Noi stiamo parlando di vizi molto elementari, capito? Infatti Parlare di vizi così elementari, quello... Io so troppe chitarre, quello c'è il vizio delle macchine Allora mi devi dire, un vizio che non è elementare Un vizio che non è elementare sono i vizi più intrigati, più ambigui, più violenti Ecco, bravo Ecco, così io intendo il vizio Beh, ma ti racconto anche io con te, perché quello è vibere Cristi, fai naturale se lo chiediamo Fa il cantante rock, è naturale che ha tantissime chitarre Ma un attimo mi fai parlare, ma io non lo so perché deve parlare sempre lei e mi deve toccare Beh lo sai i vizi normali Ma lo sto facendo, lo faccio parlando Non è un vizio Stai dicendo che 100 chitarre non è un vizio per uno che canta Cosa? 100 chitarre per uno che canta Non è un vizio, è una passione Può essere una passione Infatti è una passione, bravo Ed è bello avere delle passioni Perché uno ridiventa bambino attraverso la passione di avere tanti giocattoli E significa vivere la vita per noi Perfetto Infatti in Inghilterra si dice toy around Cioè io sto giocatolando intorno T'ho levato la parola No, 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 che ho caldo Volevo farti questa domanda Voglio sapere per te quali sono Almeno tre vizi che non sono elementari come hai detto tu Guarda, 50 anni fa si diceva Sex, drugs, rock and roll 50 anni fa Che rock, che rock, che rock, che rock 50 anni fa Adesso si può dire porno pedofilia Si può dire serial killer E si può dire Non sono d'accordo, mi dispiace Ricciardo Quelle sono devianze sociali Cosa? Quelle sono devianze sociali e non sono i vizi I vizi come hai detto tu prima Non soltanto 50 anni fa Ma scusa, scusa, ti voglio spiegare una cosa Scusa Dimmi C'era un bellissimo ragazzo Con i capelli lunghissimi Che si è fatto assumere Perché non trovava lavoro Come becchino e guardia dei morti Cosa faceva questo? Non trovava lavoro Questo aveva il vizio Di mangiare i morti Che schifo Questo è un vizio, vero? No, no, questo è un malato Ma dai No, è un fatto di grado È un fatto di grado Che non possiamo definirlo come vizio È un malato È una cosa madura Ma sono deviazioni mentali Adesso poi siamo nell'ecceso Dai, dai Sono d'accordo Hai capito che ti voglio dire? Sì Ho capito in piedi Non è la collezione di farfalle il vizio Allora, allora Forse sono uscito fuori dall'argomento E me le dispiace No, no, per carità Però alla fine Ricciardo Qualcosa ne va oltre il vizio Forse c'è molto l'argomento Siamo usciti un attimo fuori dall'argomento E sono d'accordissimo Però da lì ad arrivare a dire Che il vizio è la porno pedofilia O comunque mangiappos Io me mangerei vivi Ma scusa, un pedofilo che cos'è? Non è un vizio? No, non è un vizio Che cos'è? No, no Una la volta, ragazzi Una la volta Ma è anche un vizio Un vizio grande No, non è un vizio Ragazzi, ragazzi Ragazzi, piano, piano Lui ha fatto quattro termini Completamente opposti In tutti i quattro i termini Che lui ha sposto I cinque termini Entravano perfettamente La mia ideologia L'ideologia del perbenista L'ideologia sua L'ideologia sua E anche la loro Allora, scusate Avevano ragione tutti quanti Rispetto a quello che diceva Il vocabolario Richard, scusate Scusate, scusa Richard Scusate tutti Allora, no, no Ma è corretto Perché poi c'è anche da Comunque stare È un vizio È un vizio È un vizio Menare alla moglie È un vizio Quello c'ha il vizio Di menare alla moglie Non beve Non si droga Ma c'ha il vizio Di menare alla moglie Facciamo un applauso Perché Basta Stai Infatti Non è un vizio Non è un vizio Ma abbiamo appurato Che il vizio di Richard È quello di urlare Forse Ma non è un vizio No, ma perché lui urla Io posso anche non urlare Bravo Urla Con potenza Non ho bisogno di urlare Posso parlare Guarda Mi sembra che non c'è E allora parla così Bravo Ragazzi, ragazzi Allora, Richard Ma poi la cosa assurda Scusa, la cosa assurda Posso parlare Che un vizio Non danneggia gli altri È assurdo Questa città Richard, tu invece Se io ho avuto sempre donne Che fumavano Più che altro E allora Poi stando con loro Ho fumato pure io Hai iniziato a fumare anche tu Quindi non l'hai mai fatto Per vantarti E per conquistare qualcuna Io provo Un grande gusto Nel fumare invece Onestamente Un vero vizio A proposito Un vero vizio Adesso anch'io È ovvio Ti dico l'inizio Era così A 12 anni 13 anni Adesso anch'io No, ma adesso Io ti spiego Forse sono entrato Così tanto Nel vizio Che se io sto suonando La chitarra da solo A casa Io se non accendo Una sigaretta Mi manca qualcosa Anche nel suonare Accendo la sigaretta È un Quindi ci riallacciamo Alla domanda Che prima vi ho fatto Ti sentite più forti? No Con i vostri Sì Non riesco a concentrarmi Di più con la sigaretta È vero È strano Quindi più forte È più concentrata Quella è una sigaretta Io non fumo Cerchiamo di tenere Le due cose distinte Perché poi A volte sono distinte A volte sono uniformi Mi dispiace Non so Le conseguenze vizi Che sono Rizzornati Qual è il tuo pensiero Ricciardo Che a volte sono Possono essere considerate A parte che i vizi Si possono poi Moltiplicare In tante altre maniere Tra l'altro Lo stesso vizio Perché uno lo fa Per una ragione Uno lo fa per un'altra Uno lo fa per un'altra Ancora Per cui è soggettiva La cosa Esatto E andrebbe studiato Su ogni singolo individuo Esatto Poi Chiaramente C'è Il vizio E c'è Diciamo Come ha detto lei Prima Come abbiamo detto Prima Dipendenza La dipendenza La Anche la voglia Di fare Sempre la stessa cosa Perché entri In questo vortice Che il corpo Si abitua Una droga Richard Diventa una specie di droga Pure la pasta Ma Io In un mio testo Io sono drogata Di pasta Scusa In un mio testo Io ho parlato Del latte droga Pensa un po' Del latte droga C'è una mia scena Sul palco In cui io chiamo Mia madre E che cosa Gli dici Mamma 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 Cioè a quel punto Arrivava Cioè questa era una scena Ve la dico molto spicciola Ve la dico molto spicciola Arrivava una ragazza Stupenda Col seno di fuori Io succhiavo il suo seno Chiedendo Che avevo bisogno Del latte droga Anche il latte Era diventato Una droga A quel punto Ma era una scena Metafisica Che ognuno Poteva interpretare Certo Come volesse Voleva Scusa L'italiano Margot E' se scandalizzata Di questa tua scena Pensi No più che scandalizzata Ma un po' Ma trasmesso un po' D'ansia Io sono una persona Che trasmette Cioè Non sono scandalizzata Richard Benson No Non lo so E' una persona Che trasmette Delle sensazioni Perché è una sensazione E' una Cioè mi ha dato una cosa Una sensazione E' una sensazione Ma io cosa sto facendo Molto forte Che molto probabilmente Il suo intento era questo Trasmettere qualcosa di forte Beh se l'ha fatta In un suo concerto Cos'è il mio ruolo Nella vita Ascoltate Voglio saperlo da te Perché sono a te Posso fare questa domanda Fermi Tu non ridere lì dentro C'è poco da ridere Argentet Allora Richard Quante star della musica Sono morti appunto Per i loro vizi Tante Tante Brian Jones Janis Joplin Kurt Cobain Jim Morrison Jim Hendrix Tanti Tanti Io ne ho Più di me Tre di me Alcuni si sapevano Beh Quello è un altro vizio Poi ad esempio Nino Ferrer Che nessuno lo sa Che cantava Io vorrei la donna rosa Bella Oppure Pelle nera Si è sparato Una fucilata in bocca Nino Ferrer Ah si Adesso non lo sa No Non la sapevo Lui anni fa Si è dato una fucilata In bocca Ma a causa di Di depressione Di depressione Non lo so Danny Gatton Si è dato un'altra Fucilata in bocca Che è un grande Chitarrista Country western Ultimamente Sotto effetto Di qualche droga Sotto effetto Alcol No 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 Penso che siano Crisi depressive Quelle Alla Hemingway Sì Alla Hemingway Pure lui in bocca Capisci Ci sono tanti casi La maggior parte Guarda Guarda la storia Solo di Dalida Tutti parlano di Tenko Tu lo sai meglio di me Che gli altri tre mariti Che ha avuto dopo Si sono tutte e tre suicidati E poi alla fine Dopo cinque tentativi di suicidio C'è riuscita pure lei È vero Dimmi se la Dalida Non aveva qualche potere strano Sugli uomini Ovviamente sì Si sono tutti ammazzati C'è stato qualcosa di particolare C'è stato qualcosa che non è andata E beh certo Comunque arrivare a morire per il proprio vizio mi sembra un No quello a me sembra assurdo Mi sembra veramente assurdo A me sembra assurdo Perché Tante persone non capiscono però Non riescono a limitare Per me il rock significa gioia Significa suonare Significa imparare a suonare ancora meglio Dunque significa esercizio giornaliero Disciplina sullo strumento Significa sentire un po' di blues Un po' di heavy metal Un po' di vecchio rock Un po' di rock progressive nuovo Un po' di jazz Un po' di tante cose Perché la vita è fatta di tante cose Per cui tutte queste sensazioni Vanno trasferite sullo strumento Nella vita di tutti i giorni E anche come persone Possiamo trasmettere tante cose Quando si dice una persona È una buona persona È una brava persona Ammazza quanto è simpatico No Siamo fatti tutti di particelle diverse C'è una parte di noi bella C'è una parte di noi più brutta C'è una parte di noi media C'è una parte stupenda Una parte esaltante E sono queste cose Che l'uomo e la donna Si dovrebbero confrontare Chiudo con questo Perché non ti voglio togliere Altro tempo In un testo ho scritto Forse sto con la metà di me stesso Che detesto di più Bello Bravo Richard, bravo Grazie Bravissimo Allora